Buongiorno Ma che cazzo è? Acqua e olio Mi piacerebbe saperlo tempestivamente Apri gli occhi e ti svegliati Ma Dio boh non si vede nulla Quanti invernali li ho ritrovati Da Lidl Sono i conti del Lidl Ma veramente lì? Eh si Quanti hai pagato? 15 euro 16 forse Cosa li hai presi? Ma da miliardi di anni Ne ho cambiati due modelli Sono identici Ma magari con la Lidl La sponsorizzazione Cazzo Che? Il telefono La musica Le chiavi Di cosa? Della moto Ah Roll Come un marsupiale Guarda Beh effetto E' iniziata la costierina Oddio Mi sta risalendo il pranzo della rosticceria Una chiavica Mamma mia quando switchi dall'MT a questa Mi devo ricordare di usare la frizione quando cambio in salita Che dopo un po' uno si Bella sta folle In entrata di curva Oddio le mie gambine No oggi proprio sto off Sto tutto ingreccato Ma qualcuno di voi va a cavallo? Iniziato da poco in guidazione L'ho fatta quando tenevo tipo 14 anni E ora ho ripreso Ma sto morendo Cioè è stancantissimo Quanto è prepotente sta moto Mamma mia è troppo bello il 190 Non lo voglio vendere Non lo posso levare così a pur leggero E' troppo una bella moto Beh vanno pienino i ragazzi Ah comunque ragazzi è una novità assurda Che però la vedrete parecchio più in là sul canale Perché qualche giorno fa è stato il mio compleanno Il 4 dicembre Eh si lo so Faccio uscire i video con una differita assurda E salvo un ragazzo che mi segue sulla piattaforma viola Trovate il link giù in descrizione E' un pazzo E per il mio compleanno mi ha regalato Una giornata in pista da Irola Che è un circuito che sta nel Beneventano Teatro della mia prima volta in pista Nel lontano 2014 Sai di fatto che io sono mega hypato E contentissimo Non vedo l'ora Ve l'ho già annunciato su Instagram questa cosa Infatti vi consiglio di andarvi a seguire Sempre il link in descrizione E soprattutto non so con che modo andarci Se con il 690 o se con l'MT Perché il 690 l'ho già portato in pista Depotenziato da Irola E ripotenziato al circuito del Sele Orco 2 che mostro Valentino si è preso un infarto Sato cielo Comunque stavo dicendo Il KTM era depotenziato quando sono andato ad Irola E mi piacerebbe davvero tanto poterla portare là Anche perché è una moto sicuramente più adatta alla pista Rispetto all'MT Allo stesso tempo l'MT non ho mai visto come si comporta in pista E il vantaggio potrebbe anche essere quello là Che guadagna un po' più feeling Con lei ci conosciamo meglio Tra virgolette Quindi non lo so Sono un po' indeciso Ora comunque ci fermiamo ai masti E vediamo un po' chi ci sta a fare cosa Sì 2011 però Tiene tutto da qua in poi E' tipo 2020 Cioè questo è del 4,50 E questo Pure del 4,50 Sì grazie Bene Volevo farla alzare Ha sgommato Beh figura de merda Qua ha sgrittato la ruota o la frizione non si capisce A volte ha freddo sgritta un po' la frizione Andiamo pianino che c'ho le gommine fredde Sì Si vede un cazzo Ah Onda mia senti come parte Ah è proprio L'asfalto è gelato Le gomme mi sa ancora di più Voglio andarci molto molto cauti oggi Ah chiedo ai motociclisti L'inverno oggi so abbastanza bene Nel senso che fa freddo però Con tutti gli strati addosso che tengo Non mi posso lamentare L'unica cosa E' una vita Che io lotto con lo spiffero in gola Cioè proprio mi entra Tra il casco e il giubbotto Quello spifferino d'aria Che ti fa tornare poi col mal di gola a casa Tengo il collo alto della maglia termica Non che è uno scaldacollo normale E uno antivento Però diciamo solo scaldacollo Che non arriva fino a giù E' un problema solo mio Oppure un problema che condivido con qualcuno di voi Che è riuscito a trovare una soluzione Perché l'unica cosa che mi è venuta in mente Ma non riesco a trovare Soprattutto come dico Un luogo Come cazzo è partita Soprattutto come dico io Sono quegli scaldacollo Che hanno pure il bavaglino Non so come chiamarlo Perché secondo me è l'unica soluzione In modo che stai completamente protetto Fino a giù e si cazzi Però soluzioni un po' meno invasive Non credo di averne trovate Boh Eppure ho cambiato giubbotti e altre cose Non lo so Boh Mamma mia Ha scodinzolato il posteriore Cosa che non ha mai fatto con queste gomme qua Si vede che è proprio freddo l'asfalto L'avevo detto 500 volte Ma non fateci caso voi L'ultima volta mi stavo per ritrovare Un 190 in faccia qua Però ero con l'MT Ora effettivamente Potremmo far nascere Il nuovo 1290 Aspetta quant'è? 690, 690 1380 Non so la matematica non è il mio forte Ma sono sicuro che sarà un ottimo modello di KVTM Ah ed eccoci qua arrivati a Maiori Oh no a mezzo Valentino Bastardo Oh mio dio l'oreghio per terra Si E' vero migliora dal vivo Ma Platinette Resta Platinette pure dal vivo Cioè non cambia Povera Platinette Vittima di body shaving Mi dissocio Mi sento una persona cattiva Ah fa fuori Abbiamo preso il caffè Ora siamo tornati a casa Mamma fa freddissimo India sta fa Rally La cronoscalata Quella con il furgoncino Ah i lampioni Si vede qualcosa finalmente Si vede qualcosa finalmente Quando Senta quella curva Setta e stretta ad angolo Che tu su rettiline hai chiappato il furmo Eh L'agio ha chiappato il motto in angolo Ah E se te l'ampiavo E ti fudo Minchia quando l'alzavo Non si vedeva nulla Cioè sul rettiline l'ho messo giù Perché non ci vedo più un cazzo Ho detto una roba via Ma sono piccoli sui fricci Eh sono minuscole Però lui ce la fanno Aspetta Si vanno E' parlato Ma come E qua va però Oh Ah Ah No eh La frizione Mi sta che sta Cioè il comando Questo già era rotto lo ring Però ora piscia parecchio Secondo me il resto a piedi Trovo Si scassa sempre L'ho cambiato un anno fa 70 euro sta strunzato Eh beh perché questo è il comando idraulico eh Infatti senti Non c'ha il filo Senti quanto è morbido Oh Eh è bello Ah bu Ci vediamo Oh ciao scoppio Ciao Ragazzi è rotta la frizione Non ci voglio credere Sta pisciando olio dappertutto Se no almeno riusci a tornare a casa Non ci voglio credere Cazzo Cazzo faccio mo Oddio Oddio Minchia Senti quanto è morbida Cheat grazie al cazzo Era esplosa Madonna mia Il cammino Sto cercando di fare tutto Senza cambiare marcia Dai 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 Madonna mia Pure il traffico Non ci voglio Cazzo come faccio No i passeggini Veloci 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 Veloce veloce Bravo Grazie No il semaforo Oddio Ma cazzo Dai 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 Andate 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 Non si spegne Senti quanto pistona No Se va foro arancione no Chissà se riparte Ma io mo come cazzo faccio Vado Ma no ma è pieno di traffico Ma io mo come faccio qua Ecco qua No 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 adesso ho finito È fine È fine del meme Oddio Oddio si stanno fermando Oddio Aiuto O me lo faccio in prima Non lo so così almeno riesco a decelerare Fino a quando il pistone non mi entra nel culo Ma non so in che marcia sto in seconda credo Mi fa tutto in seconda Vabbè A Carmine noi chiamo questi giorni qua Quindi la porto E mo non so se se la puoi prendere Levati le coglioni tu Questa cosa Allora per fortuna ho trovato anche Meno traffico del solito Devo dire Mi è andata veramente di culo Oh Vaffanculo Andiamo se riesco a girare Senza scalare No non ce la faccio Ok Sono vivo Vi farò sapere come andate a finire Quanto costerà sto scherzetto Anche se Già è successo in passato Siamo sulle 70 euro Oh non mi è successo nell'arco di Sei anni Mi succede due volte In un anno Vaffanculo Che due palle Comunque grazie per aver seguito questo video Se vi è piaciuto vi invito a lasciare un like Ad iscrivervi al canale Un commento Non lo so Fate quello che volete Io cercherò di non morire nella discesa del garage Ci vediamo al prossimo video Cioè questa stacca tipo qui stacca Non la premo troppo Perché almeno vorrei Lasciarmi la possibilità Di arrivare almeno al concessionario Quando sarà Boh